Di fronte all'aumento della curva dei contagi, gli ospedali non si fanno trovare impreparati. Anche al Dea dell'Agronocerino Sarnese si sta tenendo conto dell'aumento del fabbisogno di pazienti trattati per Covid. Si lavora sulle possibili proiezioni che richiederebbero di ridisegnare di nuovo le attività ospedaliere comprimendo altre attività come accaduto in precedenti fasi della pandemia. Siamo allertati, siamo pronti a riconvertire se la curva aumentasse di contagio. I posti letti attivati e già rimodulati qualche mese fa ci mette nella condizione di poter fronteggiare quest'impatto ospedaliero. Ovviamente l'impatto ospedaliero è molto inferiore a quello che in effetti era nello stesso periodo dell'anno scorso perché i vaccini che se ne dica stanno facendo effetto. La loro parte sono efficaci. Al momento noi su Scafati abbiamo 16 posti letti attivi di pneumologia semi-intensiva, 4 posti di intensiva e abbiamo 4 posti in pronto soccorso. Al momento abbiamo solo 13 posti in pneumologia, uno in terapia occupati e uno in terapia intensiva. Il pronto soccorso anche con l'aiuto dei colleghi e del responsabile del pronto soccorso che a seconda della tipologia e della complessità della malattia stessa riesce a gestirli o con i ricoveri o addirittura dopo la fase di stabilizzazione collocarli presso un isolamento fiduciare e quindi affidarla all'usca territoriale. Quindi al momento siamo allertati ma con tranquillità stiamo gestendo questa fase. Più vacciniamo e più ovviamente c'è un abbassamento dei contagi stessi. È importante al momento anche la terza dose perché bisogna sapere, penso che già lo sanno, però è utile ripeterlo. Dopo i sei mesi dalla seconda dose ovviamente c'è un decano, come devo dire, va a scemare la protezione immunitaria e quindi è giusto che venga fatta la terza dose. La terza dose viene fatta a sei mesi dalla seconda dose e ovviamente è preferibile innanzitutto le persone anziane, gli ultrasessantenni, i fragili, quelle categorie di persone che ovviamente sono più esposte, oltre ai sanitari e ovviamente anche ad altre fasce proprio per contenere questa infezione. è importante quindi sollecitare a fare le vaccinazioni e nello stesso momento il consiglio che posso dare, mi permetto di dare, è anche di essere sempre prudenti e usare ovviamente i dispositivi di protezione, la fattispecie le mascherine.